Pronti per questa intervista? Sì Ok Di dove sei? Napoli Cosa fai nella vita? Faccio l'influenza Qual è la tua canzone preferita? Sì, quando ha mille euro, ma non puoi sentire vicino Lasciami andare, devi capire, non so solo, non c'è alcun Sì, fortunato in Napoli, sincero, però Sì Torneresti indietro nel tempo per non fare lo stesso olore Oppure per fare qualcosa che non hai fatto? Sì, 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 vorrei tornare a indietro Vorresti vedere il tuo futuro? Sì La persona che vive più bene a questo mondo, chi è? Il mio genito Il tuo sogno è il cassetto? Essere ricco Ci vediamo nella prossima intervista Ok, ciao